Resta la più totale confusione sull'obbligo del Green Pass per accedere alle mense aziendali. Una FAC del Governo sul suo sito istituzionale ha infatti rimescolato le carte dicendo che sì per la consumazione al tavolo o al chiuso i lavoratori possono accedere alle mense aziendali o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione solo se muniti di certificazione verde. Il Governo si allinea così alla posizione di aziende come la Anum System che dopo la minaccia di sciopero dei lavoratori aveva peraltro fatto dietro front riamettendo al desco anche i non vaccinati. Inaccettabile per i sindacati e chiedono con FIM CISL, FIOM CGL e la WILM che ci sia chiarezza normativa. Basta con la confusione generale dalla comunicazione del Governo, dicono. Nel mirino proprio la FAC sul sito istituzionale del Governo che però malgrado gli estrali dei sindacati resta per ora salda al suo posto. Per i sindacati è necessario adottare provvedimenti chiari che impediscono alle aziende di assumere decisioni unilaterali. Completare la campagna di vaccinazione, aggiungono. Rispettare i protocolli di sicurezza concordati ed evitare i contenziosi. Il Governo, chiedono i sindacati, agisca subito prima che la situazione diventi incontrollabile. Sul tema si attendono anche le decisioni della Regione Piemonte che dopo una prima circolare diffusa, seppur in bozza, nella quale si escludeva l'obbligo del Green Pass nelle mense, potrebbe anche ora cambiare idea allineandosi alla FAC del Governo. Per ora i gestori delle mense vanno in ordine sparso. C'è chi promuove un lunchbox da consumare all'esterno e chi invece continua a servire pasti senza controllo del Green Pass. Una soluzione potrebbe venire dai comitati aziendali Covid con la proposta di effettuare tamponi rapidi prima dei pasti ai reprobi del Green Pass. Ma chi ne sosterrà il costo è tutto da stabilire. Grazie. 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 Grazie.